Buongiorno a tutti, eccoci a un altro video su Fsharp, video in cui vorrei mostrare quali sono i passi che dobbiamo fare per consegnare un esercizio. Partendo dal presupposto che volendo trasferire tutto il contenuto della mia creazione, della mia soluzione, questo non è possibile farlo via mail, soprattutto con provider, come ad esempio Google, che ci fa vedere come un virus nel nostro file da consegnare. Quindi per far questo cosa facciamo? Creiamo un nuovo progetto e facciamo tutti i passi che servono, quindi apriamo un'applicazione Windows Form, la chiamiamo ad esempio consegnare, e creiamo un'applicazione molto semplice in cui non ci interessa tanto la logica di funzionamento, ma semplicemente andare a mettere qua degli elementi, quindi supponiamo che so di mettere un text box, non stiamo neanche a nominarli o altro perché è solo avere una forma, un button ad esempio, quindi un button e lo mettiamo qua e magari che so mettiamo una label dove quello che inserisco verrà visualizzato magari sulla label. Ok, quindi l'evento sarà doppio clic sul button 1, dove semplicemente prenderà e andrà sulla label 1.text e andrà a scrivere, non stiamo a fare controlli se è vuoto, se è pieno o altro, ma prenderà il contenuto del mio text box 1.text, quindi molto molto semplice come programma, F5 per lanciarlo, verifichiamo che funzioni, qua scrivo prova di scrittura, scrittura, ok andiamo su button 1 e ci dà prova di scrittura. Questo è il file che noi vogliamo realizzare. Allora è importante capire intanto dove abbiamo realizzato la nostra applicazione, quindi se io vado sulla parte file e vado a vedere salvaform.cs con nome, lui ci fa vedere esattamente la cartella che lui ha creato, quindi per vedere tutto il percorso andiamo a vedere, anzi selezioniamolo direttamente da qua, vedete, siamo dei project, consegnare, consegnare, quindi annullo un attimo, il percorso completo sarà in documenti, quindi andiamo a prendere dalla cartella documenti, ok andiamo a prendere qua V di Visual C Sharp 2012, andiamo a cercare i vari project, e qua sono in ordine cronologico, ecco il nostro progetto da consegnare è semplicemente questo, come è strutturato, intanto questo lo posso anche chiudere, tanto non ci serve più a niente. Il nostro progetto è fatto così, c'è una cartella che contiene all'interno il solution, quindi la parte di soluzione, il collegamento, ma dentro consegnare, dentro la cartella consegnare, abbiamo una serie di file. Ecco la parte da consegnare è semplicemente l'insieme di questi file, poi se uso dei file di testo che vado a mettere ad esempio nella cartella debug, ok prenderò anche il file di testo, però a noi interessa per adesso prendere questi file che rappresentano la mia soluzione, il mio progetto. Questi file li posso tranquillamente copiare, quindi CTRL C, creare una nuova cartella qua, dove voglio, anche dentro il progetto, quindi tasto destro, nuova cartella, questa cartella la posso chiamare prova consegna, ok, dentro prova consegna, CTRL V, incollo tutto, e poi per essere più più snella la consegna, questa cartella, tasto destro, la vado a in qualche modo comprimere, cioè creo un archivio .zip. Ecco qua, questo è il mio archivio .zip, che se io vado ad aprire vedete che trova tutti i file che abbiamo messo precedentemente. A questo punto vediamo la fase contraria, quindi questo io lo posso tranquillamente inserire come legato su una posta, una posta elettronica qualunque, e come legato viene, viene trasferito perché non viene evidenziato nel suo virus, eccetera. Vediamo a questo punto di fare la parte opposta, cioè quando io ricevo un file di questo tipo, come mi devo comportare. Per far questo che facciamo? Allora, intanto ci apriamo un altro progetto, un progetto qualunque, quindi ancora, qua un nuovo progetto che chiamiamo ricevuto ad esempio, ricevuto, apro la mia soluzione, cosa importante, la mando anche in esecuzione. Non fa niente, giustamente, però io intanto la avvio in modo tale che lui generi tutto il progetto. Il form è vuoto e va bene così. Cosa devo fare a questo punto? La posso anche chiudere questa. Se vado a vedere in project, questa volta vedo che c'è anche ricevuto. Cosa devo fare dentro ricevuto? Beh, devo andare a prendere i file che ho generato con il file precedente, consegnare, quindi andiamo su consegnare. Qua ci sarà la cartella compressa. In teoria farò un tasto destro per decomprimerla e mi riporta a questa situazione, quindi semplicemente una volta che viene decompressa, prendo questi file, ctrl-c, andiamo su project, devo creare la soluzione ricevuto, quindi entriamo qua dentro, dentro la cartella ricevuto, vado a sostituire questi file, cance, elimino questi, ctrl-v, quelli che ho incollato prima, e ho a questo punto la mia soluzione. C'è un altro passo importante da fare. Qual è questo passo? Beh, il fatto che io andrò a lanciare un ricevuto SLN solution, vedete che lo apre con Visual Studio Solution. Allora, devo fare in modo che tra tutti i file che ho creato, ci sia questo, C-Sharp project, che non si deve chiamare consegnare, come quello che io ho consegnato, ma si deve chiamare come io vado a lanciare la soluzione, cioè ricevuto. Allora, facilissimo, vado a sostituire consegnare, come nome, con ricevuto. Ok? E, dopodiché, salgo di una cartella, vado nuovamente sulla solution, e posso lanciare la mia soluzione, F5. F5, scusate, doppio clic, carica la mia soluzione, mi ritrovo, vedete, non il form vuoto che avevo creato per ricevuto, ma i file del mio progetto da consegnare, qua trovo, appunto, sull'esplorare la soluzione, tutti i file, quindi la fase di progettazione, oppure, se voglio il codice, tasto destro, visualizza codice, vedete che ho la stessa situazione di prima. Ovviamente, devo vedere che funzioni, quindi, tasto F5 per lanciare il progetto, questa è la prova di scrittura, di trasmissione, prova e basta, quello che volete, clicco su patto 1, e vedete che il mio programma sta funzionando. Ovviamente, questo è un programma banale, ma se fosse un programma più complesso, la situazione sarebbe esattamente la stessa, così come utilizzare i file di testo. Vi rifaccio vedere un attimo cosa ho fatto, quindi, semplicemente, io sono andato sulla mia nuova soluzione, che si chiama ricevuto, qua dentro, sono andato a copiare tutti i file che sono stati creati, invece dal progetto consegnare, quindi da dentro consegnare, questi file li ho messi dentro la cartella, prova consegna, vedete, questa prova consegna l'ho zippata, messa dentro questa prova consegna zippa, e questo è inviato per email. Una volta che l'ho ricevuto, faccio il processo opposto, cioè creo un'applicazione vuota, dentro ho ricevuto, incollo tutti i file, rinominando il file di C Sharp Project, con lo stesso nome della solution che ho a livello più importante. E questo è sufficiente per andare a inviare, quindi ricostruire il progetto che io ho consegnato. Per questo brevissimo video è tutto, alla prossima. Ciao ciao!